La regione interviene per salvare la Solagri, tal dopo la decisione del Consiglio regionale il caso all'esame dell'Aggiunta, 5 milioni di euro per ripianare i crediti più impellenti lavoratori in attesa. Fioroni a Monti, ok se si candida l'ex ministro del PD favorevole al bis del professore ma dovrà essere eletto, ha fermato, poi attacca Vendola, non può stare coi moderati e di fatto scarica Bersani. Trasporto pubblico di saggi per lo sciopero, anche in Molise dipendenti del settore fermi a Singhiozzo, senza rinnovo, stop, senza fasce orarie, dice il sindacato di saggi nelle città per l'assenza di mezzi pubblici. Estate torrida, chiesto stato di crisi, agricoltura in ginocchio, dopo la stagione più calda degli ultimi cento anni, la Fusco Perrella scrive al governo aiuti alle imprese per un anno. Coppa Italia arriva il Sorrento, domani a Selvapiana, di nuovo in campo per il primo turno del torneo tricolore, la gara eliminazione diretta. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro telegiornale delle 14, la crisi della Solagrital in apertura dopo la decisione adottata dal Consiglio regionale di intervenire sul piano finanziario a sostegno dell'azienda. Oggi il caso è finito sul tavolo della giunta regionale. Il governo Iorio dovrà reperire 5 milioni di euro per far fronte ai crediti più impellenti. Intanto nel pomeriggio si riunirà l'assemblea dei soci di Solagrital per decidere la messa in liquidazione e il fitto del ramo di azienda alla GAM. Ma sentiamo tutti i dettagli e le novità nel servizio di Giovanni Minicozzi. E' stato un dibattito articolato e a tratti ingandescente, ma alla fine la maggioranza ha deciso di intervenire ancora una volta per mettere una toppa ai buchi della Solagrital e si è assunta la responsabilità di impegnare 5-6 milioni di euro per liquidare le spettanze arretrate maturate da lavoratori, trasportatori e allevatori presenti in massa ai lavori del Consiglio. La minoranza, ricompattata per l'occasione, aveva presentato una sua proposta bocciata dall'Aula che prevedeva l'erogazione di 8 milioni di euro con il sistema del prestito prosoluto attraverso la Fimmolise direttamente ai creditori e quindi senza passare per gli attuali amministratori che, secondo l'opposizione, devono essere revocati e chiamati in causa per le loro responsabilità. Una maggioranza che si presenta in Consiglio regionale, sapendo da 5 mesi che ci sono migliaia di lavoratori che non percepiscono lo stipendio, appunto da 5 mesi e non presenta neppure un documento istruttorio senza spiegare nulla e presenta un generico impegno senza indicare né quanti soldi né con quali modalità. Noi abbiamo ritenuto di presentare invece una proposta operativa quantificando l'importo economico e individuando anche i capitoli di bilancio e le modalità. Non certo continuando a dare soldi a Solagrital, ma dando i soldi direttamente ai lavoratori, ai creditori, agli allevatori e ai trasportatori per il tramite della finanziaria regionale. È stato già fatto in altre circostanze, doveva essere fatto anche questa volta. Continuare a dare soldi a Solagrital senza sapere poi che fine fanno è un atto politicamente ignobile. In aula non sono mancati momenti di forte contrapposizione verbale, soprattutto tra Massimo Romano e Giambrango Vittaliano, ma alla fine del confronto è passata, con i 12 voti contrari della minoranza, la posizione del centrodestra che impegna la Giunta ad intervenire, mediante idonea disposizione finanziaria, per garantire la continuità produttiva e il pagamento degli arretrati maturati dalle maestranze, anche attraverso il fitto del ramo di azienda. Più che salvare, questa volta si tratta di garantire che si possa pensare ad un rilancio. Quindi questa è la condizione. Siamo ormai in condizioni estreme per una serie di coincidenze. Il concordato arena è una condizione di mercato difficile, ma sarebbe impensabile che oggi la proprietà e la politica non assumessero la responsabilità di intervenire per garantire che chi viene, sia esso ministero o privato, si trovi un'azienda che è in continuità e che funziona. Oggi il patrimonio è quasi tutto nelle mani della Regione, completeremo questa operazione, dopodiché speriamo presto di riprendere noi a governare la società e qualche privato affidabile a fare polli e a fare mercato per questa importante parte del patrimonio regionale. Noi interveniamo per salvaguardare la continuità, ma con un prestito che ci dovrà essere restituito. Sull'intera vicenda resta il nervosismo dei lavoratori, senza stipendio da cinque mesi, che in mattinata hanno presenziato la sede della Giunta in attesa della delibera che sblocca i fondi necessari, promessa per oggi e dunque attesa ad Oras. I 27 lavoratori in esubero dello zuccherificio del Molise chiedono invece certezze per il loro futuro. Al momento la loro attività lavorativa continuerà fino al 15 ottobre. L'azienda e la Regione Molise afferma il comitato che li difende. Si devono assumere la piena responsabilità e l'onere degli impegni sottoscritti lo scorso 6 luglio, dove era stato annunciato appunto l'impegno per il rientro in fabbrica. Il comitato si è rivolto anche all'amministratore delegato dello zuccherificio Alberto Alfieri, che aveva proprio affermato in quell'occasione di non voler abbandonare nessuno. Il Governo fa sul serio dopo i tagli e gli accorpamenti delle province. Ora tocca alle Regioni pronto un disegno di legge costituzionale per tagliare e accorpare le cinque regioni più piccole. E in testa c'è il Molise. Sentiamo Enzo Di Gaetano. La lotta per salvare la provincia di Sernia è eliminata lo scorso 7 agosto con l'approvazione della legge sulla spending review. È subito apparsa difficile ed uno degli appigli su cui puntare fin dall'inizio è stata l'impossibilità di far coincidere con il ritorno di via Berta con Capobasso il territorio dell'unica provincia molisana con quello della Regione. Ma ora tutto si complica perché questo problema potrebbe essere superato a breve dal Governo. Infatti Monti avrebbe intenzione di abolire le cinque regioni italiane più piccole. E in testa c'è proprio il nostro Molise, i cui costi di funzionamento sarebbero balzati agli occhi proprio del Governo Monti. E il Governo ha intenzionato seriamente a tagliare alcune regioni. I tagli più pesanti potrebbero arrivare nel prossimo futuro. Il Governo sta valutato infatti la presentazione di un disegno di legge costituzionale per ridurre il numero delle regioni. Ne verrebbero eliminate almeno cinque, tra le quali il Molise, i cui parametri di spesa sembrano tutti fuori dalla grazia di Dio. Basti pensare al numero di autisti della Regione 34. La Regione marca i cinque volte gli abitanti del Molise, un territorio di quattro volte più grande di autisti, né alla metà. Dunque, nonostante l'impegno del Consiglio regionale che proprio ieri ha approvato la riduzione del numero dei consiglieri da 30 a 20, anticipando così il Governo, questa volta l'autonomia della Regione Molise è davvero a serio rischio e se davvero questa riforma andrà in porto, in meno di un anno non solo sparirà l'autonomia della provincia di Sernia, ma anche quella del Molise, che a quel punto verrebbe accorpato ad un'altra Regione. A Campobasso Giuseppe Fioroni ha rilanciato la sua proposta di proseguire l'esperienza del Governo Monti, ma il Premier deve candidarsi alle elezioni. Ha detto, poi ha attaccato vendola, non favorisce, ha spiegato l'alleanza tra i moderati, l'esponente del PD ha in pratica scaricato Bersani. Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Si è concluso a Campobasso con la presenza dell'ex ministro Giuseppe Fioroni il ciclo dei seminari organizzato dal PD su sanità, cooperazione e stato sociale. Noi dobbiamo cambiare il nostro welfare, sanità e sociale, combattendo gli sprechi e gli sperperi, le nostre Regioni devono spendere meglio, non buttare i soldi dalla finestra, però è anche vero che abbiamo due problemi di fronte che vanno rifresolti e sono le nostre sfide. Ormai viviamo fino a 90 anni, da 60 a 90 anni c'è un problema che prima non avevamo. Trent'anni di progressiva non autosufficienza, che non è l'invalidità, ma la distanza tra la nostra mente che funziona bene e il nostro corpo che non ci consente sempre di fare quello che vorremmo. In una società moderna serve un supporto perché questo possa essere fatto, che non è all'interno degli ospedali per acuti, ma è con l'assistenza sul territorio, con quell'assistenza che a volte è sanitaria e quella a volte è sociale. Non poteva mancare il suo intervento sulla politica nazionale dopo che Fioroni insieme a Casini ha messo in fibrillazione il PD e ha chiesto a Monti di continuare a guidare il governo anche dopo le prossime elezioni. Io dico una cosa differente da Pierferdinando Casini, ma credo che anche lui se ne renda conto, non ci può essere un Monti bis senza un passaggio democratico. C'è la necessità che il Presidente del Consiglio, che non ha bisogno di essere candidato al Senatore, trovi i modi e le forme per entrare nella competizione democratica, alla guida, come io mi auguro, di quel mondo moderato che ha perso l'incanto e l'illusione per le magie di Berlusconi e che resterebbe a casa. Mi auguro che il PD e Bersani sappiano dire no a vendola, se continuo a dirci, rinegate l'agenda Monti, sappiano dire no a vendola, se dice allearsi mai con i moderati e sappiano anche evitare. Bersani può essere un competitor alle elezioni da alleato con Monti e che prende più voti fare il Presidente del Consiglio o decidere la coalizione e credo che con Monti in campo è difficile per chiunque sostituirlo e per il PD, ad eccezione del Bersani, vedo molti amici che hanno detto che con il coraggio dell'incoscienza si candidavano a governare il Paese. Con Monti in campo credo che tutti gli italiani rifletteranno che un incosciente coraggioso non è di certa l'altezza di Monti. Ma tra Monti e Bersani lei chi sceglierebbe? Sceglieremo insieme chi è la persona più idonea per guidare il Governo. Se c'è, come dice la destra e ai numeri per poterlo fare, un premio di maggioranza al singolo partito, annunciamo l'alleanza e poi saranno gli elettori, chi prende un voto di più, fa il Presidente del Consiglio e l'altro ha 10.000 ruoli per andare avanti. È stata una delle estati più calde degli ultimi secoli, come più volte hanno dichiarato anche gli esperti di clima. Ora l'agricoltura paga il conto di mesi senza acqua e dal Molise arriva la richiesta di calamità. Giovanni Di Tota. I nomi richiamavano l'inferno dantesco, gli effetti sono stati simili a quello delle fiamme. Gli anticicloni che hanno attraversato mezza Italia durante la primavera inoltrata e l'estate hanno fatto boccheggiare la popolazione ma le conseguenze più devastanti sono arrivate per il settore agricolo. Caronte, Minosse, Lucifero e compagnia hanno compromesso i raccolti di frutta, cereali, ortaggi e ora si presenta il conto. Secondo le prime stime delle associazioni di categoria i danni sfiorano il miliardo di euro. L'agricoltura ha pagato l'assenza della pioggia e la conseguente insufficienza delle riserve d'acqua. In Molise gli invasi di Guardia Alfiera, Occhito e Chiauci hanno soddisfatto appena le esigenze dei cittadini, in particolare quelli del Basso Molise che pure hanno avuto l'acqua razionata. Ora la giunta su proposta dell'assessore Fusco Perrella ha chiesto al governo di intervenire. Noi abbiamo dichiarato lo stato di crisi, ha spiegato Angela Fusco Perrella, ma ora ci vorranno altre misure per permettere all'intero settore di tornare a respirare anche sui mercati. Per questo il Molise ha chiesto al Ministero di emanare lo stato di crisi per calamità naturale. Un provvedimento è la proposta per consentire almeno per un anno di sospendere il versamento dei contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti, sospendere il pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario per 12 mesi, incrementare il fondo di solidarietà. La richiesta è sul tavolo del Ministro Catania. Intanto nella sede dell'assessorato regionale all'agricoltura è stato firmato un protocollo d'intesa proprio tra l'assessore Angela Fusco Perrella e i rappresentanti dell'Unione Cuochi Molisani e l'Associazione Regionale degli Allevatori del Molise. L'obiettivo del documento è quello di promuovere il settore agroalimentare, in particolare quello delle produzioni di origine animale, con marchio Italia Leva che è stato detto rappresenta uno dei punti di forza nel quadro produttivo molisano. Avere sulle tavole di ristoranti ma non solo prodotti di qualità e certificati e l'intento che si sta concretizzando, ha detto l'assessore Fusco Perrella, l'iniziativa ha continuato, mira anche a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e le associazioni nel settore culturale, turistico e ristorativo, sponsorizzando il binomio prodotto-territorio e valorizzando le giovani professionalità. Parliamo adesso dello sciopero del trasporto pubblico urbano indetto per oggi in tutta Italia. Gli addetti al settore protestano per il mancato rinnovo del contratto. Anche a Campobasso gli autobus cittadini hanno circolato a singhiozzo e ci sono bello poco che aspetto, non ce l'hanno detto che sciopero? Qualcuno come questa signora alla fermata dell'autobus non era al corrente dello sciopero nazionale del trasporto pubblico urbano indetto da CGL CISL, UGL CISAL e ha dovuto aspettare non poco per raggiungere la destinazione. A Campobasso qualche autobus ha circolato alla guida autisti che non hanno aderito alla stensione dal lavoro, ma di mezzi arancioni in sostanza non se ne sono visti poi tanti, garantito il servizio solo al mattino dalle 5.17 alle 8.17 nel pomeriggio dalle 13 alle 16. Ti è stata un'alta adesione? Ma io credo di sì e penso che sono pochissimi gli autisti che non hanno aderito. Chi ha aderito allo sciopero come questo autista della SEAC lo ha fatto per l'annosa questione del rinnovo del contratto. Anche se credo che questa volta era importante aderire perché noi abbiamo un contratto fermo da circa tre anni e mezzo e quindi insomma sapete con il periodo di adesso che insomma gli stipendi sono quelli che sono. Era importante aderire proprio per sensibilizzare il governo e soprattutto le associazioni datoriali che non vogliono sedersi al tavolo delle trattative. Se non ci saranno risposte i sindacati dicono di essere pronti a proseguire nella mobilitazione e nello sciopero con il blocco totale dei servizi senza fasce orarie. Intanto i disagi non sono mancati per chi non può fare a meno del mezzo pubblico per spostarsi, specie degli anziani ma non solo. Io voglio aspettare parecchio speriamo di no, speriamo che passi. No adesso siamo scesi con l'uno nero però stamattina sulla stazione è un'oretta, aspetta l'uno nero per andare alla zona industriale. Quindi comunque ci sono disagi, sono parecchi tre i pullman che non partono? Sì sì assai, ce ne sta solo uno che fa tutto il giro della città. Bisogna aspettare parecchio. Un'ora. Caccia aperta sulla Bifernina due malviventi che questa mattina hanno messo a segno un furto in un'azienda agricola di Casa Calenda. I ladri hanno portato via su un furgone targato Milano diversi tubi di ferro ma sono stati visti mentre si allontanavano. I carabinieri hanno dunque disposto numerosi posti di blocco tra le strade interne e la statale. Stanno lavorando anche su altre ipotesi e non solo su quella di una violenza sessuale. Gli investigatori di Isernia, i quali nei giorni scorsi una donna straniera di 50 anni, aveva denunciato di essere stata violentata da due italiani. Dopo la denuncia la procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale ma l'indagine condotta dalla squadra mobile non ha trovato finora riscontri oggettivi al racconto. Il caso è stato definito anomalo dagli investigatori anche per la dinamica descritta dalla donna che ha raccontato di essere stata prelevata con la forza dopo le 20 di venerdì scorso lungo una strada in pieno centro e trascinata in auto in una zona periferica dove sarebbe stata violentata da due aggressori. Stanno per partire a Termoli i lavori per il nuovo impianto di depurazione nella zona del Sinarca. Entro un anno il depuratore del porto verrà depotenziato fino alla sua graduale dismissione. Il servizio di Emanuela Iorio. Entro un anno il depuratore del porto verrà depotenziato ai cattivi odori che soprattutto in estate risalgono fino al borgo e che sono il sintomo di un impianto in affanno. Saranno solo un brutto ricordo. Tutto sarà possibile quando verranno ultimati i lavori per il nuovo modulo nella zona del fiume Sinarca, nell'area dell'ex mattatoio che smaltirà i reflui di 12.500 utenze, alleggerendo così il carico per il depuratore del porto. Contemporaneamente anche a Rio Vivo verranno realizzate due pompe di sollevamento che manderanno le acque nere al depuratore che si trova al consorzio industriale e che al momento è sottutilizzato di circa il 50% rispetto alle sue potenzialità. Poi per lo spostamento definitivo del depuratore bisognerà trovare nuovi finanziamenti. Il sindaco Antonio Di Brino ha illustrato le lungaggini dell'iter burocratiche dovute a ritardi da parte della struttura regionale e la necessità di modificare il progetto stilato dall'aggiunta di Giandomenico e ripreso da quella di Vincenzo Greco. È stato necessario sollevare l'impianto di 80 centimetri perché quella del Sinarca, ha spiegato il sindaco, è una zona alluvionale. Una mia idea antica che era quella che era in contrapposizione sia all'amministrazione di Giandomenico che all'amministrazione Greco, cioè non realizzare tre moduli al Sinarca da 2.500 utenze che avrebbe in qualche modo deputurpato una zona residenziale della nostra città, ma solo un modulo per soddisfare quelle che sono le esigenze di quei nuclei abitativi. Invece convogliare tutti i reflui cittadini al depuratore del Consorso Industriale che è già una zona compromessa. Per i lavori già partiti negli ultimi mesi con l'adeguamento delle reti fognari in via Corsica, sul lungomare e in Contrada Colle della Torre, erano stati stanziati 4 milioni di euro dalla Regione e successivi 3 milioni da parte del Ministero. Quella del depuratore del porto è stata una follia, detto l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Sabella. Non so chi l'ha pensata a suo tempo, ma la popolazione non può più accettarla. Io ogni volta che vado a Genova, vado a visitare il Museo del Mare e mi chiedo perché Termoli non possa avere, anche se in maniera molto più ridotta, la stessa cosa. Quindi rendere Termoli una città pulita, una città più ordinata, come ho sempre sostenuto, eliminare quella bruttura giù al porto e trasformarla in un'opera culturale piuttosto che in un depuratore. Cambia il vertice nei carabinieri, il generale Gianfranco Rastelli non è più comandante generale della Legione Molise, da domani al suo posto il colonnello Lombardi che ha ricoperto fino ad oggi la carica di comandante provinciale dell'arma a Campobasso. Intanto nuovo comandante anche per il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia del Capoluogo, il tenente Vincenzo di Buduo, infatti sostituisce Francesca Ferrucci, trasferita ai servizi di sicurezza dell'aeroporto Roma-Ciampino. E avvicendamenti anche alla Guardia di Finanza, nuovo responsabile del nucleo di polizia tributaria, il tenente colonnello Delio Palumbo. La direzione del GICO invece passa al maggiore Vincenzo Bontiempo. Sostituiscono rispettivamente i tenenti colonnelli Amedeo Gravina e Diego De Luca, destinati ad importanti incarichi in altre sedi. Protestano i familiari dei disabili e degli anziani bisognosi di assistenza domiciliare a causa della mancanza di fondi. L'ambito territoriale di Isernia è stato costretto a dimezzare le prestazioni per l'anno prossimo. Inoltre temono lo smantellamento del servizio. La drastica riduzione delle ore di assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani sta creando enormi disagi a decine di famiglie che ricevono il servizio dall'ambito territoriale e sociale di Isernia. Una lettera ricapitata qualche giorno fa ha annunciato il dimezzamento delle ore settimanali di assistenza alle persone che ne hanno fatto richiesta con effetto pressoché immediato. Si tratta di un provvedimento provvisorio dovuto dalla limitata disponibilità di fondi è scritto nelle comunicazioni indirizzate a 165 anziani e 60 disabili ma i destinatari del servizio ci credono poco. Già nei mesi scorsi c'era stata una riduzione delle ore dicono ma il ripristino integrale dell'assistenza domiciliare non c'è mai stato. Anzi da ieri il numero di ore settimanali è stato ulteriormente ridotto creando inevitabili disagi. Solo chi si trova in questa situazione, dicono i familiari delle persone assistite, può capire le enormi difficoltà che si affrontano ogni giorno. Per questo pretendono chiarezza, vogliono sapere chi e perché non mette più a disposizione questi fondi e se questo servizio avrà o meno un futuro. Per ora infatti si sa solo che il taglio durerà fino al 31 dicembre. Solo dopo si vedrà se le prestazioni garantite dal piano sociale di zona avranno o meno un seguito. I destinatari del servizio di assistenza restano comunque scettici. A loro avviso le istituzioni interessate si impegnano nel sociale più con le parole che con i fatti. Ora vediamo le immagini del raduno interregionale dei Vigili del Fuoco che si è svolto a Campobasso. In 300 si sono ritrovati nel capologo di regione provenienti anche da Marche e Abruzzo. Sentiamo Giuseppe Lanese. Si sono ritrovati a Campobasso per un raduno interregionale tra Marche, Abruzzo e Molise. Circa 300 i partecipanti alla manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco che si sono poi incontrati in piazza prefettura nel capoluogo. Prima la consegna di una corona di fiori al monumento ai caduti, poi il corteo per il corso insieme alle autorità e ai cittadini. Subito dopo si è tenuta la messa in cattedrale e infine tutti i partecipanti si sono spostati al Teatro Savoia per una cerimonia. Esposti in piazza anche alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile con i cani addestrati, ad accompagnare i partecipanti la banda di Petrella Tifernina. Dopo vari anni, dopo più di dieci anni, il raduno interregionale si fa qui nel Molise per la prima volta. È un presidio per tutta la popolazione, non soltanto per il territorio, perché le unità cinofile che vedete qui, che hanno sede a Campo Chiaro e fanno capo al comando e alla direzione regionale dei Vigefuoco del Molise, intervengono su tutto il territorio nazionale, in Campania, in Puglia, nelle Abruz, sulle calamità, sulle ricerche di persone. Ci sono attività che vengono svolte sia in ambito locale, sia in ambito regionale, sia anche su tutto il territorio nazionale. Che cosa significa invece essere Vigili del Fuoco? Ecco, vogliamo spiegarlo anche ai nostri telespettatori. Essere Vigili del Fuoco significa portare il soccorso alla popolazione nel modo migliore e con grande professionalità e passione. Ma anche, almeno questa è la funzione, il compito dei Vigili del Fuoco, insomma, che esercitano questa attività non come un mestiere qualsiasi, ma come una missione. E quindi, come tale, portano anche conforto, aiutano i cittadini, parlano con loro per cercare di alleviare per quanto possibile le varie sopperenze, oltre che a portare il necessario soccorso, che è fondamentale in caso di calamità, ma anche nei incidenti giornalieri, insomma. Il 5 e il 6 ottobre Isernia sarà sede del congresso internazionale organizzato dalla Advanced Medical, durante il quale verrà presentato il primo dispositivo che permetterà agli povedenti di iniziare a vedere. A chiusura dei due giorni di congresso, all'auditorium, ci sarà un concerto con artisti non vedenti di livello internazionale, con la partecipazione di Mario Biondi e dell'orchestra sinfonica Rossini di Pesaro. Le prime 100 persone che essi prenoteranno saranno ospitate al concerto, a condizione che partecipino anche al congresso del giorno 6, al successivo pranzo e che devolvano a favore dell'Unione Italiana Cechi una donazione di 20 euro. Si è conclusa ieri la seconda edizione del Molisani Band e Song Contest, che si è svolto all'auditorium di Isernia, soddisfatto il presidente di giuria, nonché ospite della serata, alla voce dei Mattia Bazar, Silvia Mezzanotte, il servizio di Marcella Tamburello. Tutti i giovanissimi, ma carichi di entusiasmo e voglia di fare, sono i cantanti e le band musicali che ieri sera si sono sfidati sul palco dell'auditorium di Isernia davanti ad una platea gremita per l'evento Molisani Band e Song Contest. La manifestazione, creata dall'artista Campobassano Antonello Carozza, ha visto la partecipazione di numerose band e cantanti locali che per oltre un anno si sono esibiti su tutto il territorio regionale per superare le sedizioni ed arrivare così alla fase finale di Isernia. Madrina della serata, la cantante dei Mattia Bazar, Silvia Mezzanotte, che prima di sedersi nella postazione di presidente di giuria ha tenuto durante la giornata delle lezioni con i giovani cantanti. Non tengo lezioni singolari, ma faccio masterclass più o meno con 20 ragazzi alla volta, li ho ascoltati tutti uno per uno cantare. Alcuni di questi ragazzi poi hanno partecipato al concorso, uno in particolare quello che ha vinto. E devo dire che avevo già notato nel pomeriggio che aveva veramente una bella vocalità, giovanissimo peraltro. C'è un grande entusiasmo una bellissima qualità in quello che ho potuto sentire oggi e anche questa sera, devo dire, durante questa lunghissima kermessa ho sentito belle voci, band che si sono esibite live. A tutti i concorrenti del concorso è stata data la possibilità di suonare dal vivo con l'orchestra, cosa che non accade quasi mai. Quindi non posso che fare i complimenti a chi ha organizzato questa manifestazione e questa struttura qui a Isernia, proprio cercando di coltivare i talenti che stanno nascendo proprio in questa regione. Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria band di Stazione 9. Nella sezione song ha vinto invece il giovanissimo Emiliano De Luca, 15 anni, con la canzone Non riesco a farti innamorare. A presentare la serata gli speaker radiofonici Mary Jo e Mario Faraone. Durante la finale sul palco sono saliti anche i bambini delle scuole elementari di Isernia e Colli al Volturno per omaggiare la tragedia di San Giuliano di Puglia cantando con Antonello Carozza 27 angeli. L'ospite della manifestazione dopo l'intera giornata trascorsa a Isernia ha voluto ringraziare gli organizzatori dell'evento e ha raccontato anche i suoi prossimi impegni. Abbiamo il 6 e il 7 ancora nelle piazze all'aperto, saremo in Calabria e in Puglia. Dopodiché partiamo per Toronto, il 21 per una serie di spettacoli a Toronto, rientriamo, abbiamo ancora una tappa teatrale a Bologna, al Teatro Manzone di Bologna e il prossimo mese invece andremo a Mosca, quindi continuiamo comunque ad essere in giro. È stata festeggiata con l'esibizione di un quintetto jazz, la festa dei nonni nella residenza sanitaria assistita di Larino, un centro che mira a diventare fiore all'occhiello della sanità regionale. Manuela Iorio. Mattinata speciale quella di oggi, la residenza sanitaria assistita di Larino in occasione della festa dei nonni che ricade nel giorno dei Santissimi Angeli Custodi. In Italia ci sono circa 15 milioni di nonni, la maggior parte donne e circa il 70% di loro, quando c'è la possibilità, contribuisce al budget della famiglia dei figli con regali, partecipazione alle spese e prestiti vari. Per gli ospiti dell'RSA di Larino, quelle di oggi sono state ore di relax e socializzazione, ascoltando il quintetto jazz che ha suonato per loro. Nella struttura in via Lualdi, a Tigualvietri, inaugurata lo scorso marzo, ci sono 20 posti letto che presto diventeranno 40. 15 persone tra infermieri, assistenti e medici. Si dedicano 24 ore su 24 agli anziani, ospiti dell'RSA. L'RSA è una struttura per persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria continua, però non di un'elevata assistenza sanitaria, ma soprattutto per persone che non possono più continuare a vivere nelle proprie abitazioni perché non hanno nessun altro che è in grado di assisterle. Quindi questa è più sostanzialmente la tipologia degli osperi, anziani fragili, anziani non autosufficienti. Mino Dentizi, responsabile da un mese della RSA, ha annunciato l'intenzione di voler coinvolgere le scuole per un concorso che dia un nome alla struttura per anziani, dove ha detto opera personale eccellente. Miriamo a diventare RSA capofila rispetto alle altre che verranno aperte nel territorio molisano, ha concluso Dentizi. L'RSA può diventare una struttura di eccellenza per le residenze che si occupano di anziani e di soggetti fragili e vogliamo operare in questo senso anche facendo all'interno dell'RSA tutta una serie di aggiornamento continuo per il personale, di aumentare i rapporti con le associazioni di volontariato e soprattutto fare più spesso momenti culturali sempre all'interno della struttura. Da oggi riprende l'appuntamento con la trasmissione a carte scoperte in onda come sempre in diretta a partire dalle 21.20. Questa sera si parlerà della sicurezza delle scuole di Campobasso e delle polemiche suscitate dall'ordinanza del sindaco che ha fatto slittare l'apertura dell'anno scolastico. Ospiti di Lino Venditti, l'assessore Nicola Cefaratti, il consigliere Maria Luisa Forte, che è referente del CIDI, il centro di iniziativa democratica degli insegnanti. Adesso una notizia di servizio che arriva da Molise Acque che ha comunicato l'interruzione del flusso idrico dalle 9 alle 17 di domani nei comuni di Castelpagano, Riccia, Cerce Maggiore, Gielsi, Santa Croce del Sannio. Lo stop servirà ad effettuare alcuni lavori per ammodernare la condotta. È tutto, termina qui il nostro telegiornale. Dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo alle 15 per il TG Flash. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.